Quindi una fiera creata e ideata con tanti eventi collaterali per renderla fruibile a tutti gli abitanti di Podenzano. Quando mi sono candidato a sindaco, una delle mie idee principali del mio programma era di rendere più vivo Podenzano. E quando parlavo di questo ero convinto che si potesse rendere più vivo Podenzano. Mi sono accorto da questa parte che dietro a tutte le cose che vengono fatte c'è un impegno di volontari, un dispiegamento di forze notevoli.